Penso buona sensazione diciamo al fine della settimana quindi siamo un po stanchi del lavoro però abbiamo fatto una bella partita pulita nel senso che abbiamo dimostrato tutto che lavoriamo nella settimana quindi sì penso che un buon amico vuole. A me la battuta mi piace devo dire che abbiamo cambiato di palle quindi dobbiamo trovare anche le sensazioni con queste palle. Mi piace tutto nel pallavolo e con questo gruppo soprattutto che è una bella energia e giochiamo tutti insieme questo è molto importante di avere questa serenità nel gruppo per il futuro della squadra. Abbiamo due giorni di riposo fa bene per corpo e recuperiamo e martedì iniziamo a fuoco. Ciao Ciao Ciao